Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme e una fonte amica della coppia infatti avrebbe rivelato a Nuovo TV che il ballerino ha tutte le intenzioni di chiedere alla showgirl di sposarlo nuovamente così da tornare ad essere di nuovo una famiglia a tutti gli effetti. Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un'altra volta così da sancire simbolicamente il nuovo inizio.